È un atto vile perché comunque si viene eventualmente anche solo per fare un furto a rubare a un soggetto che si occupa di povertà, di chi sta male, di chi ha bisogno d'aiuto. Sono entrati nella notte nella sede della CGL di Montevarchi alla ricerca di denaro. Per introdursi hanno letteralmente abbattuto il portone di ingresso. Un colpo nel cuore della cittadina valdarnese scoperto solo questa mattina quando la sede è stata riaperta. È ancora più vile pensare di venire a fare cassa dentro una sede che offre e permette il mantenimento dei diritti a chi ne ha bisogno. Misero il bottino, ancora da quantificare anche l'ammontare dei danni che i banditi si sono lasciati alle spalle. Si parla di rimettere a posto la porta, ridare un po' d'ordine dentro l'ufficio e poi forse saranno sparite dalla cassa un po' di contante che era presente, però ecco non sappiamo quantificarlo ancora. Sul posto la polizia di Stato che ha dato avvio alle indagini, intervenuta anche la scientifica per raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili e chiarire i contorni della vicenda. Nessun collegamento ci sarebbe comunque con l'assalto a Roma della sede del sindacato, tantomeno con gli atti intimidatori registrati un anno fa a Camucia, dove sulla porta della sede fu appesa una bandiera con l'aquila e il fascio littorio. Pensiamo che non sia un atto riconducibile a azioni politiche come quanto è avvenuto a Roma tre anni fa e quanto è avvenuto un anno e mezzo fa alla nostra sede di Camucia. Questo sembra un vero e proprio tentativo di furto e di scasso.